Edizione straordinaria, edizione straordinaria, il cui temati scorse nella piazza Grigia, alla presenza di decine di migliaia di persone. A volte, a volte mi distanza quando 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 testa fra le mule. Capita anche lei, no? Non sa che ci somigliamo i due? Sì, siamo tutti e due distratte. E' incredibile. Sì, la gente distratta mi piace. Sì, la gente distratta. E' un'altra cosa che si tratta. E' un'altra cosa che si tratta. E' un'altra cosa che si tratta. Correrò verso l'aera. Correrò. Cercherò la mia libertà. Correrò. Cercherò la mia libertà. Cercherò la mia libertà. Cercherò la mia libertà. Correrò la mia libertà. Cercherò la mia libertà. Cercherò la mia libertà. Correrò la mia libertà. Cercherò 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 la 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 libertà. Grazie.